Comunità Montanevalle Trompia collabora già da parecchi anni con Giuliano Radici in molte delle sue iniziative, sia di natura culturale, ma anche quelle di iniziative più a carattere sociale. E proprio per questa ragione abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo progetto che ci è sembrato assolutamente straordinario, meritevole di attenzione. Ci sono coinvolti molte persone che vengono dalla valle, l'associazione Giotinilaia ha sede a Sarezzo in Valtrompia e quindi c'è parso assolutamente naturale e doveroso dare un nostro piccolo contributo affinché questa iniziativa possa avere il successo che merita.